Di fronte abbiamo una organizzazione che ha ambizioni, soldi, uomini pronti a combattere che nessun'altra aveva mai avuto. Una organizzazione spietata che infligge torture e commette crimini brutali contrari a ogni principio di umanità. Una organizzazione che aggredisce con l'intento di annientarla ogni minoranza etnico-religiosa ricorrendo anche a forme di programmato genocidio. Una organizzazione che espone la comunità cristiana a persecuzioni e la sopraffazione dell'Islamic State si abbatte anche sulle minoranze kurde yazide con assassini e stupri. Questa mia informativa ha l'obiettivo dunque di entrare nel merito di quanto detto e di confermare anche in voi che si tratta di una minaccia portata avanti da un'organizzazione con ambizioni grandissime e che intende porsi come una vera e propria soggettività statuale.